Non saprei cosa dire, ho fatto la mia parte, non ho ravvisato motivi per non concedere al pubblico interesse, adesso credo che debbano essere anche le squadre a convincere i nostalgici oppure chi è contro l'idea ne deve parlare con le squadre più che con me perché io sono un po' in mezzo però ripeto dal mio punto di vista prima di tutto devo far rispettare le procedure e le procedure le abbiamo fatte rispettare.